Siamo pronti? Lea Madrid Italia Un classico Applausi Applausi Condizione fisica incredibile Sta meglio di loro Ma tu te la dite? È incredibile Di fronte a questa magrezza, questo fisico Arriva! 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 Oh my god! Con il di Marco, con i workers Hai tu Hai tu Sì Occhio Eccolo! RUEEE! GOLPEGIONE 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 E' incredibile Ma! Chi ha fatto per San Domasio? Non funziona il mio Che il divanco si sia Interposto Fisicamente Si è proprio Proposto Interposto E a San Domasio Come fissiamo la partita a te? Grande covertura Adesso Vediamo quando funziona Mamma mia come sarà Non fai Non fai giusti qua Ehi! Ehi! Complotto Complotto Grande covertura E quanti hai possibilità di fare i partiti? Eh siamo Tu sei già Lo vedete? E' questo E' questo E' questo E' questo E' questo C'è ancora una possibilità Il primo A Giorgio Che ci vanno Aspetta E' questo Che non c'è La torta Forse è molto confusa Ci provate nei piedi Una volta a voi Per te che vi davano Se andate la scuola La scuola La scuola La scuola La scuola Grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori.